In questo video parliamo di valori truffi and falsi Quindi un valore falsi è un valore che è considerato appunto false o falso quando viene eseguito in un if-else statement Lo stesso vale per un valore truffi Quindi i valori infatti truffi sono dei valori che vengono considerati appunto veri quando eseguiti sempre in un if-else statement Ok, quindi andiamo a vedere intanto di che valori stiamo parlando Esistono intanto questi valori falsi? Quindi andiamo a scriverli Praticamente sono diversi e sono questi qua, sono undefined Poi abbiamo anche null Abbiamo lo zero che è anche un valore falsi e abbiamo anche una stringa, le stringhe vuote sono dei valori falsi E poi abbiamo anche not a number che ne parleremo nel futuro più dettagliatamente Sapete però che questi sono i valori falsi Quindi che cosa intendiamo proprio per questi valori falsi? Andiamo a creare un if-else statement come avevo detto Creiamo intanto però una variabile a inserire dentro Quindi variabile magari esempio Non ho fantasia, scusate E magari questa variabile esempio non la dichiariamo Ok, anzi la dichiariamo ma non gli diamo nessun valore Quindi mettiamo if-esempio E quindi la mettiamo qua all'interno E poi mettiamo un console.log Quindi nel caso in cui questa condizione sia vera Ricordiamo nell'if-else statement Se questa qua è vera viene eseguito questo Quindi vediamo che scriviamo condizione vera Nell'altro caso Quindi in caso in cui questa condizione qua Che può essere qualunque cosa Può essere quindi quello che abbiamo visto prima Ad esempio un 5 maggiore di 3 No? Questo sarebbe vero Un 6 minore di 3 Questa è falsa ad esempio Noi però come condizione mettiamo il nostro esempio Che ancora non abbiamo dichiarato però Ok, quindi mettiamo un console.log Quindi in questo blocco dell'else Mettiamo un console.log Mettiamo condizione falsa Va bene? Quindi per ora tutto liscio Quindi nel caso in cui esempio è vero Viene eseguita questa frase Nel caso in cui esempio è falso Viene eseguita questa frase Vediamo che cosa succede Quindi saldiamo Ok, ci dice condizione falsa Perché? Perché esempio quindi fa parte dei falsi E perché fa parte dei falsi? Perché non l'abbiamo definito Noi gli abbiamo attribuito un valore Quindi in questo caso esempio è undefined Ok, quindi nel caso in cui però noi andiamo a dare esempio Un valore Un valore a caso Scrivo proprio a caso Ok Ci dice condizione vera Perché questa stringa qua non fa parte dei falsi Ok, però come avevo detto Questi qua fanno parte dei falsi Quindi ad esempio Se io scrivo null Null Ok, è salvo Vedete che null è proprio falso Fa parte dei falsi Lo stesso vale per lo zero Ok, mettiamo uno zero qua E vediamo che pure Falsa E lo stesso vale anche per una stringa vuota Ok? Non ci deve essere niente dentro una stringa Viene considerata come falsa Tutto il resto però Quindi tutto il resto Quindi abbiamo qua Come è scritto Truffi Ok Questi qua Tutto il resto quindi È praticamente vero Viene considerato come un valore Truffi Ok? Quindi possiamo avere una stringa Possiamo avere qualunque cosa E queste qua da sole Quindi qua come possiamo vedere Nella nostra condizione Non c'è niente di particolare Sono praticamente solo Delle informazioni a sé Quindi non abbiamo noi Maggiore o uguale O è uguale a qualcos'altro È solo una nostra stringa da sola O solo undefined O solo null O solo zero È da soli Quindi questi saranno dei valori O truffi O falsi Ok? Quindi questo può essere qualunque cosa Può essere una stringa Può essere un numero Basta che non sia zero E ci darà infatti vero Perché questa condizione Viene considerata come vera E quindi viene seguita Proprio questa parte di codice Ok? Quindi questi sono i valori Truffi e falsi L'ho detto troppe volte Nel caso in cui voleste Voleste approfondire Ovviamente su internet Potrete trovare Moltissime cose Questo magari è un argomento Che un po' può fare confondere All'inizio Però l'avremo più chiaro Più tardi